Ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione delle province di Avellino e di Salerno. Questa edizione di Local News si apre con un'iniziativa promossa dall'Università degli Studi di Salerno, un'Università che ha celebrato l'8 marzo con un incontro che si è tenuto nell'Aula Magna dell'Ateneo, iniziativa a cui hanno partecipato tutti e 17 i dipartimenti tra testimonianze e impegno per la parità dei diritti. L'Università ha voluto lanciare un segnale e dare il suo contributo, se vogliamo, in una giornata così importante, anche dal punto di vista della sensibilizzazione, la festa della donna. Vediamo un po' in cosa consisterà la giornata che appunto è stata immaginata anche con gli studenti, con le scuole. Sì, una giornata adunisa in occasione appunto della giornata internazionale della festa della donna che vuole far emergere le buone prassi che esistono nella nostra Università, renderle conoscibili e soprattutto con il coinvolgimento di 15 dipartimenti del nostro Ateneo, dei nostri studenti e degli studenti delle scuole secondarie superiori, costruire e consolidare ma anche disseminare una cultura delle pari opportunità come poi è il titolo di questa giornata dei lavori che punta sul passaggio dalla discriminazione alle pari opportunità tra generi nella valorizzazione delle specificità e dei talenti. E qual è il ruolo dell'Università in particolare in un processo così importante come quello dell'affermazione delle pari opportunità di cui si parla spesso ma di cui spesso si parla anche magari con accezione negativa nel senso che bisognerebbe sempre fare dei passi in più? Sì, l'Università, una grande Università del Sud come la nostra può dare la sua parte oggi abbiamo una cosiddetta roadmap che vedrà tutta una serie di altri eventi già calendarizzati e organizzati dai singoli dipartimenti per andare oltre i confini di una giornata perché si costruisce una cultura diffusa delle pari opportunità praticamente sempre ad Unisa, oltre Unisa e anche in altri spazi come testimonierà una testimonianza importante che ci sarà nel pomeriggio in altri luoghi del mondo in cui i diritti delle donne sono drammaticamente violati mi sto riferendo all'Iran Gli uomini e le donne dell'arma dei carabinieri impegnati ogni giorno nel contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne elemento fondamentale in questa azione di contrasto la collaborazione da parte delle vittime stesse ai primi segnali di violenza e la violenza non è soltanto quella fisica ma anche e soprattutto quella psicologica occorre denunciare, subito dopo la denuncia è possibile attivare per gli uomini e le donne dell'arma dei carabinieri tutta una rete di protezione violenza contro le donne è ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà questo il richiamo all'articolo 1 della dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne l'invito degli uomini dell'arma dei carabinieri, degli uomini e delle donne è sempre quello di trovare il coraggio di denunciare, di segnalare il ciclo della violenza conduce al progressivo isolamento della donna maltrattata che pensa di vivere un'anomala situazione di disagio nel vademecum diffuso dall'arma non confidare sui cambiamenti di carattere e di comportamento promessi da un partner violento e non lasciarsi influenzare negativamente dalle sue offese o dalle sue minacce in caso di feriti o lividi andare quanto prima al pronto soccorso e dichiarare soprattutto la verità chiamare appena possibile il 112, numero unico europeo per le emergenze rivolgersi ad appositi centri che possono dare consulenze legali, bancarie, psicologiche, gratuite o contattare telefonicamente il servizio dedicato attraverso il 1522 è un numero di emergenza attivo 24 ore su 24 Abbiamo raccontato a più riprese del fenomeno dei furti in abitazione fenomeno che nella provincia di Salerno si sta verificando anche con gli occupanti delle abitazioni all'interno una presenza dei ladri che richiama diverse attività nei diversi angoli della provincia salernitana ad questa preoccupazione quanto sta accadendo a Tramonti dove i cittadini hanno organizzato delle vere e proprie ronde ed è il primo cittadino attraverso i social a correre ai ripari chiedo ai miei concittadini di non farsi giustizia da sé e di evitare scontri personali con i malviventi che hanno preso di mira il nostro paese a scriverlo è il sindaco di Tramonti Domenico Amatruda che invita alla calma dopo la mobilitazione spontanea per dare supporto alle forze dell'ordine nella caccia alla banda di ladri che per due fine settimana consecutivi ha colpito in alcune abitazioni alla periferia del centro della costiera amalfitana tra le sentinelle vi sono persone munite di porto d'armi usiamo intelligenza ha sottolineato il sindaco Amatruda attraverso il profilo facebook e buonsenso per cercare di essere di aiuto e le attività investigative dei carabinieri e della polizia locale non vorrei assolutamente che si andassero ad aggiungere attività illecite a quelle che stanno già commettendo i delinquenti che devono essere assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile e sono stati assicurati alla giustizia agli autori dei fatti violenti verificatisi pochi istanti prima e anche durante l'incontro di calcio San Marzano Scafatese dopo gli arresti di cui vi abbiamo dato conto arriva la presa di posizione della sindaca di San Marzano sul Sarno ai poliziotti del commissariato di Sarno va il mio applauso per aver identificato e assicurato alla giustizia i violenti che domenica scorsa hanno macchiato il derby tra le compagini di San Marzano e Scafatese quella che stiamo vivendo nell'agro in questi ultimi mesi è una deriva pericolosa del tifo che non va sottovalutata invito ha proseguito la sindaca Carmela Azzuottolo tutti i sindaci del comprensorio affare squadra oltre i campanilismi e le bandiere per ragionare sul tema insieme a Questura e Prefettura la sindaca di San Marzano sul Sarno ha dunque commentato i quattro arresti per i disordini avvenuti prima della gara tra San Marzano e Scafatese che sarà disputata al stadio Squitieri nel territorio del comune di Sarno Solo la settimana scorsa avevamo parlato dell'attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti presso il carcere di Avellino e un'analoga iniziativa di contrasto è stata messa in atto nelle ultime ore presso il carcere di Poggio Reale ancora una volta unità cinofile in azione e ancora una volta emersa la diffusione di sostanze stupefacenti all'interno delle strutture carcerarie presso la casa circondariale di Napoli Poggio Reale ancora sequestri di droga da parte della Polizia Penitenziaria il segretario regionale dell'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria Vincenzo Palmieri a sottolineare il brillante successo dell'azione condotta dal nucleo cinofili regionale con precisione dagli uomini e cani del distaccamento di stanza presso la casa circondariale di Avellino l'infallibile fiuto della coppia composta da due giovani meravigliosi pastori belgi Malinius Spike e Tyson fratelli della stessa cucciolata ha consentito il rinvenimento e sequestro di sostanza stupefacente tipo hashish all'interno del penitenziario partenopeo anche questa iniziativa del carcere di Poggio Reale fa emergere quanto l'attività dei cani debba essere delle unità cinofile debba essere una attività stabile all'interno delle strutture carcerarie più volte all'interno delle edizioni del telegiornale siamo costretti ad aprire al tema della sanità che tocca purtroppo nella nostra regione sempre più i toni dell'emergenza a proposito di gestione però della rete di emergenza una nuova iniziativa messa in atto nel territorio irnino di Mercato Sanseverino al via una petizione per chiedere l'attivazione del 118 e quella che si appresta a partire a Mercato Sanseverino per chiedere l'attivazione del servizio a circa un anno dall'accordo con l'azienda sanitaria locale Resta un rebus irrisolto il servizio 118 a Mercato Sanseverino dopo circa un anno dai sopralluoghi in quella che sarebbe dovuta diventare la sede ufficiale si continua a temporeggiare in attesa che venga completata la procedura per l'affidamento delle postazioni su tutto il territorio dopo che la precedente era stata bloccata dai giudici una vicenda surreale considerando che il comune di Mercato Sanseverino nel piano regionale sanitario è da anni riconosciuto come sede di soccorso avanzato eppure il servizio non è mai stato attivato con risvolti assurdi soprattutto per eventuali pazienti gravi i quali anche per semplici malori devono sempre attendere che le ambulanze arrivino dai comuni limitrofi come Fisciano e Baronissi con il rischio che prima o poi ci scappi una tragedia è il motivo per cui lo scorso anno l'amministrazione stessa aveva accelerato invitando l'ASL in città a discutere su un apposito tavolo di quali sarebbero stati i tempi per attivare una postazione e la fumata bianca in verità c'era anche stata a seguito di verifiche e sopralluoghi gli spazi erano stati individuati nell'ex sede del giudice di pace a quel punto sembrava solo questione di tempo prima che la sede venisse ufficialmente aperta e che i mezzi di soccorso fossero operativi invece da quasi un anno si attende ancora addirittura l'inaugurazione l'ASL salernitana ha fatto presente che prima bisognerà espletare o meglio ripetere il bando per le postazioni in quanto lo stesso era stato bloccato da un ricorso insomma si va per le lunghe e ora cittadini e professionisti del territorio sono pronti a mobilitarsi per chiedere a gran voce un servizio essenziale un gruppo di persone guidato dal cardiologo Carmine Landi e dalla sua associazione sarebbe intenzionato ad avviare una raccolta firme e se non arriveranno svolte entro un mese non è escluso che si arrivi anche alle denunce Dall'iniziativa civica per l'attivazione del 118 a Mercato San Severino al grido d'allarme dei sindacati del settore sanità per quanto riguarda il futuro della struttura sanitaria di Rocca d'Aspide segnaliamo il rischio reale dell'interruzione delle normali attività di diagnosi e cura da parte dell'unità di lungodeggenza spiegano il segretario generale della FIALS Salerno Carlo Lopopolo e viceviola segretario aziendale del presidio di Rocca d'Aspide a tal proposito occorre segnalare la totale carenza del personale medico segnalata dall'assenza per lungo periodo dell'unico medico presente in lungodeggenza tale criticità comporterebbe di conseguenza la chiusura definitiva del reparto rileviamo ormai che da qualche anno si sta procedendo a un progressivo e graduale depaueramento del nosocomio rocchese una situazione divenuta insostenibile visto l'importanza dell'ospedale fondamentale per garantire il diritto alla salute e all'intera collettività dell'entroterra cilentano che conta su 25 città e un bacino d'utenza di circa 60.000 abitanti e passiamo ora nella città di Montoro dove si è insediata nuovamente la commissione toponomastica nel corso della rubrica qualcosa in comune avevamo parlato con il primo cittadino Gironomo Giacquinto del caso delle doppie indicazioni stradali per la città di Montoro subito dopo la fusione non si è provveduto all'aggiornamento della toponomastica e sono molti i doppioni nella rete stradale locale questo crea un disagio concreto per i cittadini esistono ancora nella città di Montoro due via Roma diversi corsi che hanno lo stesso identico nome e oltre il disservizio postale si vanno ad aggiungere un'altra serie di disservizi rispetto all'accesso ai servizi primari scopo della commissione che si è insediata è risolvere il problema delle vie dalla stessa denominazione dunque e anche di quelle mai intitolate sul territorio montorese un problema annoso fin dai tempi della fusione una situazione come dicevamo che incide anche rispetto a missive di particolare delicatezza come per esempio su tutte le raccomandate postali la commissione è presieduta dal sindaco Girolamo Giacquinto ed è costituita dai consiglieri Fortunato, Bianchino, Gaeta e De Piano oltre al segretario verbalizzante Citro durante l'insediamento sono stati indicati i criteri che detteranno le proposte di intitolazione delle nuove vie che una volta passate dall'aggiunta verranno autorizzate dalla prefettura come da normativa vigente i criteri individuati sono la scelta tra concittadini montoresi che si sono distinti nel sociale, nella politica, nello sport e nella cultura particolare attenzione anche all'identificazione e alla storicità dei diversi angoli del territorio e voltiamo pagina, ci occupiamo di politica Forza Italia si riorganizza in provincia di Avellino una riorganizzazione che segmenta il territorio provinciale in diversi comitati operativi con un coordinatore per ogni singolo comitato una iniziativa, quella promossa da Forza Italia di radicamento territoriale attraverso la nomina di nuovi responsabili grazie al lavoro del coordinamento provinciale di Forza Italia e a quello della città di Avellino una riorganizzazione che conferma il ruolo di leadership di Carmine De Angelis peraltro confermato dalla stessa riunione dei coordinatori il territorio della provincia di Avellino è stato strutturato per comitati territoriali e sono state affidate deleghe su materie strategiche il coordinamento è al lavoro per nuove nomine ed attività che saranno presentate alla presenza dei parlamentari del commissario regionale Fulvio Martuscello Ed ora ci occupiamo di un importante segmento produttivo del territorio delle province di Avellino e di Salerno parliamo del settore della logistica la presenza del porto di Salerno l'organizzazione di tutte le attività retroportuali ma anche il radicamento di aziende di autotrasporto che hanno le basi nel territorio salernitano e in quello irpino ma che operano oramai in tutta Europa fanno dell'appuntamento della fiera della logistica di Verona un appuntamento cruciale per molte aziende sia irpine che salernitane Alice da anni dimostra che l'unica e più competitiva via di trasporto sostenibile è l'intermodalità marittima e ferroviaria dal momento che il trasporto stradale sulle lunghe percorrenze attraverso le alimentazioni e tecnologie alternative non rappresenta da sola una modalità realmente praticabile il presidente di Alice Guido Grimaldi ha tenuto la relazione introduttiva della seconda edizione di LetExpo la quattro giorni dedicata alla logistica e ai trasporti che si sta attenendo a Verona Fiera conferma di ciò un'analisi condotta dal centro studio Alice con il gruppo di ricerca di Intesa San Paolo stima che Alice nel 2023 trasferirà dalle strade al mare e alla ferrovia ulteriori milioni di camion rispetto ai numeri già positivi del 2022 lo scorso anno ha sottolineato Grimaldi abbiamo sottratto e trasferito 5,8 milioni di camion dalle strade italiane e dall'Italia verso l'Europa 139 milioni di tonnellate di merci generando un abbattimento di 5,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 soprattutto in Italia e lungo le grandi vie di collegamento d'Europa a tutto ciò si aggiunge un ulteriore dato economico fondamentale ovvero il risparmio di 7 miliardi di euro che i cittadini italiani hanno avuto grazie all'utilizzo del trasporto via mare e via ferro rispetto al tradizionale trasporto tutto su strada trasporto su gomma che deve fare dell'intermodalità un importante volano di sviluppo numeri che possono crescere a parità di mezzi si può avere un servizio migliore proprio grazie le vie del mare e quelle del ferro Prima di salutarci la nostra regia ci ricorda in videografica il nostro sito internet telespazio1.it e l'indirizzo mail della nostra redazione infochiocciola telespazio1.it in chiusura da parte mia come al solito l'augurio di un buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.